Ben trovati nell'angolo dello sport. Apriamo con una nota che è di colore ma nello stesso tempo legata a questa nota alla Pescara Calcio di un tempo che fu. Questo signore che vedete alle mie spalle è il professor Gianfranco Sborgia, a Pescara notissimo, medico e nello stesso tempo a Pescara era un oculista ma al momento attuale vive a Bari ma è impegnato nella medicina dello sport, amico personale di Tom Rosati ma soprattutto amico della Pescara Calcio, tifosissimo tant'è che ha vissuto del tempo a Pantelleria, poi da Pantelleria si è rispostato e per motivi familiari ma anche per motivi professionali a Bari, in particolare a Bitritto, provincia di Bari dove dirige proprio un centro di medicina sportiva e Gianfranco Sborgia non fa altro che dovunque si trovi in Italia non fa altro che chiedere notizie della sua Pescara Calcio, conosce molto bene tutti i risvolti dei biancazzurri, conosce bene la storia della Pescara Calcio, sono onorato del fatto che lui ha voluto avere anche la copia del libro, del mio libro, gli 80 anni della Pescara Calcio lo ha apprezzato tantissimo, tant'è che ne ha fatto omaggio anche a dei suoi colleghi professionisti, ma perché vi ho parlato di Gianfranco Sborgia? Per dirvi come l'amore, la passione per la propria squadra ti prende, ti coinvolge in modo tale qualunque sia la tua professione, cioè il tifoso ha una sua etica, ha una sua filosofia di vita talmente particolare che chi non è tifoso non riesce a capire. Ho scritto a suo tempo che lo stadio è come un tempio dove l'uomo mette fuori tutte le sue energie positive e negative, naturalmente dipende molto dalla cultura, molto dipende dal modus vivendi, molto dipende da tante cose, per cui c'è chi esprime la sua passione in un modo e chi in un altro, però resta il fatto che la passione è unica e sempre e comunque l'uomo che vive e segue una realtà calcistica si trasforma. Non puoi dire ma quello è il ragioniertizio, quello è il professor Caio, quello è l'operaio tal'altro. No, è un tifoso e basta. Ecco perché allora in previsione di quello che potrebbe accadere sabato prossimo alle ore 18 a Roma si gioca Lazio Pescara. I giovanismi non lo sanno, ma chi è meno giovane si ricorda perfettamente che il 30 ottobre del 1977 accadde qualcosa di brutto a Roma. Quel qualcosa di brutto che ha fatto scattare poi una scintilla di revancismo nei confronti dei tifosi bianco-celesti, noi siamo bianco-azzurri, e per cui oggi c'è questo astio. I giovani si chiedono ma perché ce l'abbiamo o dovremmo avercela con i tifosi laziali? Beh, è presto detto. Ci fu un gruppo di tifosi, uomini, donne, ma anche bambini, che si recarono per festeggiare la loro squadra, allora era diretta da Gianni Galeone. Sbagliarono curva, andarono nella curva dei laziali e vennero bersagliati in un modo osceno. Ci furono anche dei feriti in modo osceno. Poi vennono accompagnati e aiutati dalla polizia andarono nella curva giusta, quella dove di solito stanno i romanisti. Poi tornarono loro a Pescara. Beh, è chiaro che quando sono tornati a Pescara dovevano pagare lo scotto e ne è successo anche qui a Pescara di tutti i colori. Lì a Roma perdemmo 2 a 1, qui a Pescara pareggiamo 1 a 1. Ed ecco com'è nata la diatriba, la lotta. Si potrebbe anche parlare di odio calcistico nei confronti dei laziali. Bene, è tutto per questa edizione. Un affettuoso abbraccio a voi tutti, come sempre. Un saluto particolare al professor Sborgi e a tutti i suoi colleghi venuti qui a Pescara per un convegno di medicina. Un abbraccio a voi tutti, come ho detto prima, ma soprattutto un saluto particolare al regista Leo Di Blasio. Appuntamento alle prossime edizioni di TV Cusport.